Sono l'amministratore della società Sibor SRL e ci occupiamo di consulenza per gli esperti in gestione dell'energia o formiamo le società per diventare ESCO, Energy Service Company. Come avete scelto EnergyMed per presentarvi al pubblico? Perché diciamo che al sud la ritengo una delle fiere più importanti del settore dell'energia per quel che riguarda da Roma in giù.